Buongiorno, buona festa della Santissima Trinità a tutti. Vi leggo il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Dopo Pentecoste, la liturgia ci invita a rivolgere il nostro sguardo al mistero di Dio. Lo Spirito Santo, infatti, che Gesù ci dona, ci fa conoscere esperienzialmente Dio come nostro Padre, perché lo Spirito prega in noi e per noi e ci fa somigliare Gesù, il Figlio, e ci introduce nella vita della Santissima Trinità che è il nostro Dio. Il mistero della Trinità, mistero in senso stretto, che può essere conosciuto solo perché Dio si è rivelato per quello che Egli è, è il mistero centrale della nostra fede. Nel nome della Trinità siamo battezzati. Tutte le volte che facciamo il segno della croce ricordiamo e menzioniamo la Santissima Trinità. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio è Trinità. Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio è lo Spirito Santo, eppure è un solo Dio. Le tre persone divine condividono la stessa sostanza, la stessa gloria, la stessa potenza. Sono uno, eppure sono tre. E' un mistero che va al di là della capacità della ragione. Non possiamo comprenderlo razionalmente, ma possiamo contemplarlo nell'amore. E questo mistero di unità ci convoca all'unità, ci instrada verso l'unità, ci indica la via della comunione e dell'amore. Si può conoscere la Trinità solo se viviamo nella carità. Sant'Agostino ben diceva Vedi la Trinità quando vedi la carità. Chiediamo alla grazia di crescere nell'amore, di crescere nell'amore di Dio, per piacere a Dio Trinità, per poter godere di Lui nell'eternità. Buona domenica, buona festa della Trinità. Sialo dato Gesù Cristo.